buongiorno a tutti inizia il giorno 4 la stanchezza ormai non dico che si fa sentire ma è sempre presente ultimo giorno il blogger sfoggia il guantino bianco perché non lo voglio sborcare quindi vediamo cosa succede speriamo di finire in fretta ci aspettano 100 km la gara è comunque molto dura e vediamo cosa martin ha preparato per noi ready to fight? I'm not ready but I have to I'm sure but I'm not ready mexico come va la gara? tutto va molto bene che categoria? bronce è più dura? sì ha sido dura però molto divertente bene basilis dalla grecia come va parli italiano? certo che parlo italiano voglio mandare tanti messaggi a tutti i miei amici già in sicilia lasciate il mare e venite in montagna a fare enduro ragazzi dai sei and all'australia sei pronta per finire il tuo ultimo giorno di romaniacs sei pronto per farlo? sì spero credo che oggi sarà abbastanza bene sono più piccoli e dovrebbe essere un po' più difficile quindi sarà abbastanza bene il tuo face è difficile ah grazie Tolome, hombre rodrigo, bussadores di brasil brasiliano prima volta? sì, prima volta come è la gara? sì, molto più difficile che ho vinto ma sto facendo e i ultimi giorni super, guardate in touch, ci vediamo dopo sì, spero dalla Germania col TM per il Red Bull Romaniacs strong rider eh? the best fashion rider of all Romaniacs who are you? thank you from? Lituenia super look pantalone elegante camicia e cravatta grande io pensavo di fare il figo con il mio guantino bianco ma lui mi batte eh appena partiti torrenti in discesa, pietre, bello lungo bella medical assistance all ok? super piccola contro pendenza qui bisogna andare piano, quasi quasi passo qua sotto io hello go in push al termine del Romaniacs si diventa molto bravi nella camminata con moto a fianco ecco classica situazione di merda curva impicchiata a destra bisogna cercare di girarsi senza ammassarsi di sotto buon job man ok blocker è bello ritmo tutto dentro un canale a salire pietretici dei ratici una figata una figata the best enduro ever pulita arle qui qual è il suo ratico fino ad ora? f***g hot f***g hot f***g hot f***g hot f***g hot f***g hot f***g f***g il pignone e blogger c'è ok per fortuna si riparte penso a posto tutto vai ok siamo all'assistenza penso che andrò a bere una birra super bobizza il mio angelo custode non mi abbandona mai siamo alla fine ormai e siamo siamo allora una piccola controllata alcuna catena visto che si è infilato l'albero il gas gas va da paura marcia lunga e via andare forza blogger marcus stiamo facendo una bella battaglia in iron we have a good challenging in iron and good luck a good end of the day and now we take a picture together ragazzi qua sembra di essere all'herzberg invece siamo romani allora qui siamo alla fine della liaison prima di andare a conquistare il salitone finale e dai è fatta è fatta io sarei anche a posto però se lo dobbiamo fare travis how is going on a little bit in a tough day already battling with my back today I was pushing in gold so just took it easy to get to the finish do you have a suggestion for enduro blogger to climb the last uphill well judging from the years I've been doing it you just gonna make sure you absorb the bumps going up over the knees second gear and use a clutch full gas ok I'll try allora siamo arrivati alla fine davanti a me c'è il salitone finale ok adesso ne guardiamo qualcuno e poi ci provo dai che è questo è per uscire è la chicken line perché non arriva in cima al salitone il blogger ci ha provato è andata più della metà sono contento però dai ok il blogger c'è dai novi grande ecco voi come dico novi queste sono le trappole finali del Red Burgomani che duro blogger alla fine Red Burgomaniacs concluso se lo sai lo sai ma se non lo sai te lo dice il blogger ha vinto mio finalmente ce l'abbiamo fatta complimenti a tutti voglio fare i complimenti al blogger per la bella prestazione vabbè l'età è quella che è quindi facciamo il possibile certo anzi di più grazie a tutti per l'enduro blogger che ci sono venuti in Italia in Italia grazie a tutti più indirizzo grazie a tutti Angelo Enduroblogger dall'Italia per raccontare questa storia siamo a Romaniex per la prima volta e vediamo cosa succede se lo sai lo sai ma se non lo sai te lo dice il blogger Grazie a tutti.